Prosegue sino al 28 gennaio presso la Sala Incontri dell'Ufficio a Relazioni con il Pubblico di Via Arsenale a Torino la mostra Toshard sul mondo dell'animazione, organizzata dagli studenti del corso di applicazioni digitali per le arti visive dell'Accademia Albertina di Torino. Fino al 17 febbraio farà tappa a Raconigi Cuneo la mostra Dalla carrozza all'aereo, i piemontesi e i mezzi di locomozione nella fotografia dal 1860 al 1960. L'esposizione sarà visibile presso la chiesa di Santa Croce in via Morosini.